Sibonpa, Rambus, Antracita e Getta, Atomica Fars, Ananas, Getta, Alchemist B, Atena WF, Aramis e K. In secondo, Solitaria Allegra WF. 7-9 legati dal rapporto di scuderia. Mezzo meccanico in movimento. Cavalli al completamento della piegata, 200 metri prima dello stacco. L'allineamento si va a completare. Prende velocità la macchina. Arretrata Atena. Partepiano Ambus. Alla chiusura si lotta e si lotta anche Serrat l'errore di Alanas. E qui accade il primo imprevisto. E così a Sexy Bonpard può rientrare ad Atomica. Cavalli che affrontano la piegata. 13-6 a partire. E siamo al completamento della piegata. Con l'attaccata par al comando. Si completa il quarto iniziale. Nell'ordine del 28-8. E davanti alle tribunale che Mist B cerca l'aggancio. Di dentro Atomica e poi una tranquilla Allegra WF. Cavalli al completamento dei 600 iniziali. In 43 spaccati. Fuoricorsa Ananas Jet. Penultima curva. L'andatura dei Sexy Bonpard è piuttosto sostenuta. Mezzo miglio. In 58 spaccato. Tondo, tondo, tondo. Ma molto tonto per la Yankee Slide. E Alchemist B è sempre a largo di Atomica Fass. Chilometro effervescente da parte della leader. 1-12-7. 500 alla meta. Viene via Allegra. E Allegra con azione redditizia. Si sistema a seconda. Curva a finale. Frazione in 15. 1-27-7. Tre quarti di miglio. Viene via anche Roberto Vecchione. Con Aramis. Anticipata da Allegra. Tre cavalli in diagonale. Retta da rio. Aramis a largo di tutti. È il più incisivo. Vecchione. Aramis. Non è D'Artagnan. Ma è Aramis. Che spazia a piacimento l'errore di Allegra. E per il terzo è il numero due di Ambus. Alla finestra per tutto il percorso. 1-57-4. Per questo Aramis e K. Uno Nadalciba. Pennellato da Roberto Vecchione. Alla cura di Elert. Signori. Chapeau a Roberto Vecchione. Ieri ha fatto vedere un super cavallo in un gran premio. Oggi ci ha fatto notare e ci ha fatto gustare un super puledro. Anche Emilio l'aveva detto. Aramis e K. Un Nadalciba. Bene a secchi si bompar. Bene Ambus. Totalizzatore. Che borbotta. 13-51. Linea allo studio. E allora vittoria quota più che interessante per Aramis e K. Nadalciba e Freedom e K. La genealogia. Olga Ehrlert al training. I colori della scuderia FB. Una vittoria.